Buongiorno amiche, buon lunedì e buon inizio di settimana! Oggi non ho la fascetta skin care, ho fatto i boccoli, guardate che carini questi boccoletti perché volevo iniziare la settimana con un po' di boccoletti ma soprattutto volevo realizzare un make up Tiffany per la nostra amica Maria che l'ha chiesto nei commenti con anche un pochino diciamo di piega nei capelli perché a Maria il make up serve per andare a un matrimonio e quindi anch'io volevo diciamo avere una rappresentazione diciamo così del make up un pochino più veritiera con anche un po' di acconciatura io per esempio se andassi a un matrimonio sicuramente mi farei un po' di boccoletti e farei o un mezzo raccolto oppure tutti sciolti il pensiero di oggi è non pensiamo troppo ok? cioè a volte il primo pensiero che facciamo in generale per tantissime cose è quello giusto non logoriamoci troppo la prima scelta spesso e volentieri è quella più giusta sì amiche mie a volte ci si logora troppo e le soluzioni le abbiamo davanti logorarsi e arrovellarsi troppo a volte non è una cosa positiva invece super positivo è la skin care assieme a voi abbiamo applicato il tonic comfort di Lancome e ora stiamo rinfrescando il contorno occhi con l'hydro hero di essence nel contorno occhi applichiamo anche l'advanced genifique occhi di Lancome che è praticamente finito, è un mini campioncino e quasi finito è anche il Sierra One Essential Skin spero si che cos'io Skyn Boosting Super Serum di Dior è un campioncino ed è molto molto buono mi sta piacendo tantissimo ce l'hanno regalato con gli acquisti in profumeria nel viso applichiamo, massaggiamo la crema di Clarence l'hydro essential che è una crema idratante per pelli normali e secche devo dire che questa crema la trovo molto molto buona nel collo invece applichiamo la Bio Hap Taptaline Collo Seno emulsione rassodante collo seno che avevamo trovato in un giornale e non può mai mancare la Daily Defender di Pupa un fluido protettivo 7 fattori con ginseng indiano SPF 50 nel viso, collo, decolletè, manine e braccine mi raccomando e un tocco secondo me molto carino anche per un'occasione per il matrimonio il Nuxe Olio Prodigioso ma genipini, brufolini e gli occhiaie da pandina noi amiche, tanto più per andare a un matrimonio contrastiamo i genipini, brufolini con un correttore coprenza assoluta come questo qua di Pupa in pottino ma non ne applichiamo amiche un carrettone perché non vogliamo sembrare mascherati e il My Skin Tone di Bella Oggi è il fondotinta ideale adatto a quest'occasione secondo me ne applichiamo uno strato non troppo generoso mi raccomando perché sennò va un pochino troppo a fare l'effetto mascherone fissiamo il tutto con la cipria di Bella Oggi la Fix Me che va a fissare perfettamente per tutto il giorno senza bisogno di usare lo spray fissante il nostro make up il blush è di Revolution ed è il blush del mago di Oz è bellissimo, delicato adatto secondo me a un'occasione come appunto un matrimonio ma strega comanda color Tiffany amiche oggi un nuovo make up sempre dedicato al color Tiffany oggi però realizzeremo un'applicazione diversa allora senza l'amico scotch di carta applichiamo il nero un po' sbiadito presente all'interno di questa palette nell'attaccatura delle ciglia e poi applichiamo sempre nell'attaccatura delle ciglia un pochino di eyeliner nero e lo sfumiamo con un pennellino e un pochino di ombretto nero sbiadito secondo me l'effetto è molto carino con un pennellino pulito prendiamo il Tiffany matte e il Tiffany brillantinato e lo applichiamo nella parte centrale della palpebra ora prendiamo un pochino di illuminante questo è lo Shine Bright di Pupa e lo applichiamo nell'angolo interno dell'occhio e poi lo sfumiamo nella parte superiore della palpebra mi raccomando senza creare un effetto esagerato ora con un pennellino pulito abbiamo prelevato il marrone caldo nella palette e l'abbiamo applicato nella rima inferiore ancora un pochino di eyeliner ma poco poco per intensificare e il mascara mi raccomando questo è il mascara di Essence che mi piace tanto il Colmi Queen ed è veramente molto carino mi raccomando non un chilo perché non siamo le protagoniste del matrimonio ma le invitate no? quindi quando siamo le invitate non dobbiamo esagerare col make up quindi ne applichiamo sì un bello strato ma senza esagerare secondo me e nello stesso modo applichiamo il make up anche nel secondo occhio io amiche sono super curiosa di sapere cosa ne pensate del make up di oggi e soprattutto la nostra amica Maria che ha chiesto il make up per il matrimonio sono curiosa di sapere quale tra le versioni che le proponiamo quale sarà la sua preferita le versioni già vi anticipo che saranno tre intensa, media e soft questa è la seconda la versione media secondo me molto carino avere diciamo più opzioni tra cui scegliere e siamo già arrivati praticamente alla fine del make up del secondo occhio io devo dire molto molto carino e portabile un tocco amiche di volum boost di bella oggi non può mai mancare molto carino e soprattutto delicato e molto delicato anche questo jelly lip di shine bright di pupa che è trasparente specchiato con appena qualche glitterino dorato ho aperto l'inquadratura per farvi vedere in totale diciamo il look di oggi con la cofana boccolata e il make up color tiffany fatemi sapere amiche cosa ne pensate fatemi sapere nei commenti la parola segreta di oggi è cofana boccolata il cuoricino potrebbe essere un cuoricino tiffany ma anche un emoji con i capelli lunghi e sono curiosa di sapere cosa ne pensate del look e amiche mie mi raccomando ricordatevi di dirmi sempre nei commenti come state io vi mando un bacio grande 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 ci vediamo nel video del pomeriggio e ci sentiamo nei commenti ciao amiche buona giornata a dopo fatele brave ciao a tutti ciao a tutti Grazie.